ciao a tutti cari amici benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po io sono ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi chakra spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale oggi andremo a vedere come sarà la persona la prossima persona con la quale avrete una relazione cercherò di darvi quanti più dettagli possibili a partire dall'aspetto fisico al tipo di lavoro insomma andremo a vedere tutto quello che le carte vorranno dire come testimone scelto il cavaliere di coppe il primo mazzo al cavaliere di coppa rappresentato così e il retro è verde il secondo mazzo al cavaliere di coppe rappresentato così e il retro è grigio mentre il terzo mazzo al cavaliere di coppe rappresentato come un sireno e al mazzo blu ci vediamo nella vostra lettura benvenuti alle persone che hanno scelto il cavaliere di coppe con il mazzo verde andiamo ad estrarre un oracolo per vedere se c'è qualche messaggio importante da sapere prima di effettuare la lettura poi andiamo a vedere nel dettaglio come sarà la vostra nuova fiamma sono comunque letture generali quindi tenete presente che potrebbe non risuonare tutto se non risuonasse proprio nulla potete anche ascoltare una delle altre due letture se avete più di una persona magari che vi gira intorno e volete vederci chiaro potete vedere anche più di una lettura ok andiamo a vedere wow amore non corrisposto non c'è abbastanza attrazione o alchimia perché questa relazione possa funzionare dopodiché abbiamo risolvi le questioni familiari perdona i tuoi genitori la tua vita amorosa ne trarrà raggiovamento dopodiché abbiamo flirt trasmetti la tua gioiosa energia agli altri e dopodiché abbiamo conversazioni sincere esprimete onestamente l'uno all'altra i vostri sentimenti allora io qui credo che si tratti perché la prima carta amore non corrisposto non sento che sia qualche cosa che in realtà non c'è ma essendoci anche la parte di conversazioni sincere sento che un po qualche cosa che non viene detto in realtà ok potrebbe essere qualcosa qualcuno che ancora non si è come vi posso dire non si è aperto non si è espresso non si è dichiarato ma magari è qualcuno con il quale già avete questo a questo gioco del flirt in atto ok qui il consiglio di risolvere le questioni familiari perché quando c'è qualche tipo di dinamica poco sana a livello familiare si tende per forza di cose a ritrasmetterla all'interno della relazione di coppia ecco questo un po quello che vi vogliono dire le conversazioni sincere servono proprio in questo caso a tirare fuori quello che non si sa quello che diciamo non va anche per certi versi quello per cui magari non ci si trova perché non è detto che cioè molte volte si fanno delle supposizioni si crede che l'altro per esempio si comporti in un determinato modo perché non ci sia interesse mentre magari l'altro è timidissimo e non fa da che parte cominciare quindi importante parlarsi in modo sincero in modo aperto va bene arriviamo alla ciccia andiamo a vedere che cosa vi dicono i tarocchi su quello che potrebbe essere la vostra prossima persona di interesse ok allora la prima carta è un 8 di bastoni al contrario dopodiché abbiamo un 4 di bastoni un 4 di coppe quindi 24 e un 7 di coppe due carte di coppe due carte di bastoni sento fuoco e emotività e emozioni ok allora sì in effetti come vi dicevo mi sembra che sia una persona non troppo comunicativa avendo questo 8 di bastoni al contrario potrebbe essere una persona timida una persona riservata potrebbe essere una persona con la quale magari ci sono state delle questioni familiari in sospeso in passato potrebbe essere che per qualcuno risuoni anche così comunque ecco avendo questo 8 di bastoni al contrario non sento che tutta che questa persona sia esattamente espansiva o che vi dica le cose in modo bisogna sempre tirargliele un po fuori no durante i dialoghi durante i confronti le discussioni durante le chiacchiere insomma ok allora sento che questa persona io credo che abbia in testa un certo tipo di relazione un certo tipo di che abbia una sua idea dell'amore ok di quello che vuol dire unione familiare che è un po l'idea di supporto no che c'è comune cioè ci si sta insieme ci si supporta cercando di creare quello che è un rapporto una relazione stabile può anche essere che sia una persona che abbia già una situazione in piedi quindi che conviva piuttosto che ci sia qualche tipo di contratto di matrimonio e mezzo perché comunque abbiamo un 4 di bastoni però vi dico che in realtà avendo il 4 di coppe il 7 di coppe sono due carte che parlano di qualcosa che manca la carta dei 4 di coppe in realtà una carta che ci fa vedere una persona che con la testa china e non si rende conto di questa opportunità che c'è in più c'è qualche cosa qui che fa diciamo avere un'attitudine da parte di questa persona che sia un po verso se vogliamo guardare per certi versi potrebbe anche essere semplicemente una persona ambiziosa ok che ha tante le in testa che vuole arrivare in alto cose di questo genere però il risvolto della medaglia è che sente una sorta di insoddisfazione mi verrebbe da dire con questo 4 di coppe in tutta questa ricerca andiamo avanti andiamo a vedere che cos'altro mi dicono ok abbiamo un 3 di coppe un 2 di coppe un 2 di pentacoli un 10 di pentacoli e questa la mettiamo qui un 5 di 30 ok allora sento che una persona è vero probabilmente e fa difficoltà diciamo così ad esprimere se stessa ad avere conversazioni sincere ad aprirsi mi vorrebbe da dire però è anche vero che una persona alla quale piace divertirsi alla quale piace festeggiare è una persona che sa stare nella società probabilmente anche tanti amici ha una vita sociale attiva mi vorrebbe da dire ok ed è una persona con una certa rettitudine ragazzi è una persona che guardate sento un po l'energia del cavaliere di pentacoli nel senso che è una persona che quando vi dice che fa una cosa è perché la fa magari fa una cosa ogni due mesi però perlomeno quello che dice mantiene è uno che mantiene le promesse appunto vi dico che potrebbe essere anche una persona che ama viaggiare ama comunque fare cose nuove ama aprirsi tante possibilità mi parlano di innovazione quindi probabilmente gli piace l'innovazione anche da un punto di vista della elettronica ok quindi potrebbe essere una persona che magari ha a che fare con questo genere di di attività e poi abbiamo un 6 di denari e un 5 di denari ecco sento che è una persona allora se vi devo dire da un punto di vista dell'aspetto fisico io credo che sia una persona piacente come vi posso dire è una persona si sento in un certo senso che potrebbe anche andare in palestra o comunque ci tiene al proprio fisico ma non è fissato o fissata ok il giusto per mantenersi in forma anche perché credo che ci sia da parte di questa persona una sorta di offesa a livello fisico come se avesse un ginocchio danneggiato e quindi non potesse sforzare tanto a livello di appunto di ginnastica di sport o queste cose qua potrebbe essere un ginocchio ma mi dicono anche un anca quindi qualche cosa che riguarda le ossa comunque ok andiamo avanti allora abbiamo un 7 di denari al contrario abbiamo un asso di denari abbiamo un 8 di coppe vediamo l'ultima carta abbiamo un 8 di spade la carta della temperanza e la carta della giustizia dunque vi dicevo che una persona che è molto ambiziosa con questo 7 di coppe sento che è anche una persona che potrebbe potrebbe essere un po impaziente potrebbe alle volte farsi un pochettino prendere diciamo troppo dalla sete del risultato dal vedere il risultato o da avere comunque un qualche tipo di certezza immediata ok ha bisogno probabilmente di queste certezze perché qui non è tanto consapevole di quello che comunica di sé o non è tanto in grado di farsi capire qui c'è una sorta di deficit nel quinto chakra io sento c'è qualcosa che fa fatica a comunicare ad esprimere questa persona ok allora a livello lavorativo vi dico che potrebbe occuparsi allora di sapete quelle persone che organizzano feste incontri potrebbe essere un wedding planner potrebbe essere un appunto un organizzatore organizzatore organizzatrice di eventi sento molto forte anche qui il discorso palestra non tanto come palestra classica ma più come centro di riabilitazione però potrebbe risuonare in tutti i due i casi ok potrebbe anche essere in qualche ufficio ipotesi che vi che vi conosciate appunto in qualche ufficio sì qualche struttura pubblica mi verrebbe da dire è una persona che secondo me come vi posso dire ripeto è ambiziosa si sta aprendo o ha comunque già portata di mano un sacco di possibilità c'è comunque un asso di denari è una persona che in un certo senso arriva un po come un dono no in qualche caso potrebbe essere una persona un portavalori mi dicono o una persona che comunque ha a che fare perché comunque ci sono diverse carte di denari quindi potrebbe e c'è anche la parte della giustizia quindi si sento come se ci fosse qualcuno qui che sta lavorando per la giustizia magari è una guardia magari è un qualcuno che ha a che fare con le monete comunque ok potrebbe anche essere un agente finanziario vi dico un agente di borsa e qualcuno che comunque è prudente a che far maneggia dei soldi e organizza eventi anche per molte persone ok per altri invece potrebbe essere semplicemente la palestra comunque il parco sotto casa anche qui potrebbe anche essere semplicemente un posto pubblico dove si pratica sport sento che in qualche modo c'è il movimento fisico e lo sport che ha a che vedere con questa persona ecco vi do un indizio potreste conoscerlo o conoscerla nel giro di un mese o due magari per qualcuno anche prima però più o meno i tempi dovrebbero essere questi vediamo un po io sento che una persona che ha bisogno di essere rassicurato ora assicurata perché ripeto è ambiziosa è ambiziosa e comunque ha bisogno di certezze immediate ha bisogno di compromessi ecco questo se ma anche perché è una persona che comunque i compromessi di da anche cioè le sicurezze le dà anche quindi vedo un bell'inizio ragazzi vedo proprio un bell'inizio per la forte presenza di bastoni e denari potrebbe essere un segno di fuoco o un segno di terra ok vedevo se riuscivo a dirvi ancora qualche cosa in più ma andiamo a vedere un messaggio delle fatine io intanto osservo ancora un po le carte per vedere se riesco a dirvi qualche cosa in più a beh sì ecco che cosa vi posso dire in più ragazzi la persona ora un aspetto molto giovanile anche se una persona di una certa età però comunque avrà un aspetto molto molto giovanile potenzialmente potrebbe essere chiaro di capelli biondo in qualche caso rosso ma pochi casi devo dire fortemente biondo sento che altro vi posso dire la corporatura ve l'ho detta si tiene in forma ma non eccessivamente non vedo grandi altezze a livello fisico diciamo così però ecco quello che sento con la persona comunque equilibrata e quindi va bene andiamo a vedere allora abbiamo quiete quindi fondamentalmente vi dice rimanete calmi poi abbiamo riconciliazione interessante perché qui questa mancanza di comunicazione potrebbe essere qualcuno che magari già conoscete già frequentate ma con la quale ci sia solo una mezza idea e magari anche solo da parte vostra perché qui la prima carta d'amore non corrisposto quindi può essere che qualcuno interpreti questa sorta di silenzio come un non è interessato invece poi vediamo che c'è la riconciliazione poi abbiamo la ricerca e qui si tratta di puntare un obiettivo ragazzi ok e poi abbiamo rivelazione quindi qui sento che con la carta di conversazione sincere arriverà una rivelazione inerente questa persona probabilmente si dichiarerà ok bene fatemi sapere se per caso avete già adocchiato qualcuno se la lettura comunque risuona se più o meno le caratteristiche potrebbero essere quelle se comunque vi è piaciuta potete mettere un like potete iscrivervi condividere commentare ogni tipo di supporto è ben accetto io vi ringrazio di essere stati qui con me vi mando un abbraccio ci vediamo nei prossimi video ciao ciao e benvenute alle persone che hanno scelto il mazzo grigio andiamo ad estrarre un oracolo in apertura poi andiamo a vedere con i tarocchi tutto quello che vi posso dire riguardo la vostra prossima frequentazione vi ricordo che comunque le letture sono generali sono fatte per un collettivo quindi se non dovesse risuonare o se non vi piacesse questa lettura potete sempre ascoltarne una delle altre due nel caso poi vogliate contattarmi trovate la mia email qui sotto nella descrizione del video allora abbiamo quattro carte anche nella prima scelta sono uscite un sacco di carte chiama la tua anima gemella le tue preghiere le affermazioni e le visualizzazioni vi faranno incontrare quindi qui parla di fare un lavoro di legge di attrazione quindi di mandare luce a quello che è la visualizzazione che fate per manifestare la vostra anima gemella nuovo amore una nuova persona ha risvegliato i tuoi sentimenti quindi qui secondo me qualcuno ha già addocchiato la potenziale prossima fiamma dipendenza reciproca situazioni di dipendenza stanno condizionando la tua vita sentimentale allora qui parla di reciproca quindi tra due persone ma potrebbe anche semplicemente essere un atteggiamento che vi appartiene che diciamo voi tendete ad attuare e che porta una sorta di dipendenza reciproca poi tra due persone e questo sta comunque condizionando la vostra vita di relazione e poi abbiamo fattori religiosi un altro fattore che può in qualche modo influenzare da un punto di vista così ideologico quello che è la vostra vita sentimentale ok e la carta dice la tua vita sentimentale influenzata dall'educazione religiosa ricevuta e dal cammino spirituale che hai intrapreso la sento un po come se ci fossero dei condizionamenti no è anche questa cosa della dipendenza reciproca qui sento un po mi risuona così questa cosa del sacrificarsi per la famiglia più mi sacrifico più sono accettato più rinuncio a me stessa più l'altro mi ama ecco cose di questo stile andiamo a vedere con i carocchi tutto quello che riesco a dirvi di questa prossima fiamma relazione allora abbiamo un due di bastoni il re di coppe la carta del diavolo vediamo che altro ancora una carta per completare almeno la vita è un asso di denari allora credo che questa persona guardate avevo un'altra carta girata la mettiamo qua sia una persona di una certa età o comunque di una certa maturità emotiva non intellettuale dico emotiva c'è una di quelle persone che sta capire che cosa prova non è una di quelle persone che sbotta ea questi queste esplosioni né in bene né in male c'è una persona equilibrata insomma no che ha un certo autocontrollo su di sé direi il punto è che e qui vedo quella carta dove era dipendenza reciproca qui vedo che potrebbe esserci una sorta di dipendenza magari non è tra di voi magari è che ognuno di voi due ha un certo tipo di dipendenza e quindi anche poi nella relazione che avrete ci potrebbe essere una sorta di tossicità qui è importante fare un lavoro di interiorizzazione anche con il re di coppe io credo che sia una persona comunque che sta facendo un lavoro sì secondo me è in una fase di diciamo così restyling anche perché poi abbiamo un asso di denari e qui c'è qualche cosa che mi dice che è come se fossi in una nuova fase della sua vita ok come se stesse iniziando con quest'asso di pentacoli un nuovo tipo di percorso una nuova strada abbiamo poi anche un tra di coppe fa riferimento a quello che gli amici quindi io credo che sia una persona che abbia tanti amici e che comunque sia un punto di riferimento insomma per diverse persone andiamo avanti vediamo che cosa trovi di con ho visto una carta bellissima regina di coppe poi abbiamo il fante di pentacoli la carta degli amanti e il 6 di bastoni allora qui abbiamo re regina di coppe io credo che anche questa persona abbia voglia come vuoi di avere una una relazione sana una relazione che comunque possa essere completa essere sana quello scambio pulito di cui ci parlano gli amanti vi faccio presente che gli amanti sono usciti sotto il diavolo e sono un po uno il contrapposto nella dell'altro nel senso che nei tarocchi tradizionali è la stessa immagine una con un angelo bianco e l'altra con un angelo che ha le ali da pipistrello quindi parla sempre un po di quello che è l'amor proprio o leggo o qui in questo caso il fare una scelta per amore sento che c'è un equilibrio in realtà con la carta degli amanti sento che questa persona piace proprio avere una relazione piace piace il gioco dell'amore mi verrebbe da dire sento della persona che comunque quando prende di mira quando si prefigge un obiettivo fa di tutto per raggiungerlo credo che per molte persone come vi dicevo prima è una persona di riferimento potrebbe essere un terapeuta potrebbe essere una persona di spicco potrebbe essere un politico potrebbe essere una persona che comunque ha un certo tipo di notorietà mi parlano anche di un canale youtube quindi per qualcuno si potrebbe trattare di qualcuno che appunto ha un lavoro online ok andiamo a vedere che altro riesco a dirvi comunque una persona che è in vista o comunque a tante persone che lo seguono che la seguono o con la quale ha a che fare diciamo così sento che è una persona allora mi dicono bilancia ok prendetela così come risuona adesso poi andiamo a vedere se riesco a dirvi qualche cosa di più per quello che riguarda il segno zodiacale però sento una persona la quale non piace molto fare discussioni o la carta della temperanza la carta degli amanti sono da carte di forti forte equilibrio ok e il 5 di bassoni anche è una carta che di solito parla di lotte di conflitti ma è al contrario è come se ci fosse una reticenza diciamo così a creare discussioni a creare attriti come se non a questa persona non piacesse discutere non piacesse litigare ok per quello che riguarda il lavoro potrebbe fare qualsiasi cosa nel senso che è una persona che fa tante cose di fatto vi ripeto credo che sia una guida in molti casi quindi qualcuno che è un terapeuta che magari si può parlare anche di una guida di tipo cattolico di tipo cristiano quindi se siete per esempio credenti potrebbe essere magari qualcuno più evoluto di voi a livello spirituale che incontrate nella vostra congrega religiosa vite faccio presente che anche qui avevate i fattori religiosi e quindi per qualcuno può essere può risuonare in questo senso poi andiamo a vedere che cos'altro vi devo dire per certi versi sento che una persona dinamica è una persona va varia con tanti interessi con tanti hobby e credo che non le piacciono neanche troppo le regole non le piacciono troppo queste questi schemi questo essere incasellati ecco guardate per qualcuno potrebbe essere che vi incontriate alle terme mi hanno detto alle terme per qualcun altro potrebbe essere una palestra un vivaio un negozio di fiori mi dicono potrebbe essere in chiesa come vi avevo già accennato prima o comunque in quello che per voi è il luogo di culto religioso che frequentate abitualmente al lago qualcuno potrebbe essere che capiti di incontrare questa persona al lago anche se sento che in realtà questa persona la sento un po pigra in effetti quel bilancia che mi è arrivato prima in effetti bilancia sono un po pigri nel muoversi nello spostarsi sento un po quell'energia poi in realtà ragazzi potrebbe essere gemelli si diciamo diciamo gemelli capricorno potrebbe essere toro potrebbe essere vergine sì perché comunque tante carte di coppe e anche bastoni più che denari sì forse vergine un po meno anche se io lotto di coppe lo sento molto con una carta vergine perché è un po l'energia dell'eremita però diciamo più segni di terra o o appunto segni di aria perché c'è questo gemelli qua ma anche capricorno comunque beh ma non mi piace molto dire i segni perché poi ci si fa un po troppo condizionare io trovo ok andiamo a vedere un messaggio da parte delle fatine intanto da ancora uno sguardo alle carte vediamo se riesco a dirvi qualche cosa in più ah beh vi dirò che potrebbe avere i capelli lunghi potrebbe essere un tipo un castano scuro potrebbe essere anche brizzolato in alcuni casi e perché comunque qui abbiamo un re di coppe potrebbe essere una persona di una certa maturità ok però comunque tendenzialmente scuro diciamo così e per qualcuno sento che potrebbe come vi posso dire essere un po lontano dal vostro normale canone di bellezza però guardate come vedete regina di coppe qui avete chiama la tua anima gemella quindi per molte persone si tratta veramente di chiamare a voi la vostra anima gemelli andiamo a vedere ancora grazie realtà qui c'è una fatina che si specchia cercate di vedere la realtà delle cose senza le proiezioni sì è una è una carta in questo caso che vi invita a vedere quali sono io dico sempre i fatti invece che le parole no quindi cercate di guardare cosa vi dicono i fatti com'è realmente la questione insomma bene cari amici della seconda scelta spero che la stesa vi abbia potuto dare qualche indizio se per caso avete qualche persona che vi gira intorno io vi ringrazio di essere stati qui con me mi piacerebbe poi sapere nei commenti se volete supportare il canale potete sempre condividere mettere un like lasciare una donazione iscrivervi ogni tipo di supporto è sempre ben accetto io vi mando un forte abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao e benvenuti alle persone che hanno scelto il mazzo blu l'ultimo cavaliere di bastoni andiamo subito a vedere con un oracolo che cosa vi dicono per aprire la lettura e poi andiamo a vedere tutto quello che riesco a dirvi della vostra persona della prossima persona con la quale avrete una relazione un flirt una storia voglio vederle per curiosità attrazione e vale la pena aspettare ok era una curiosità non sono uscite però erano le dubbie ti ricordo che comunque le letture sono generali ok se avete già una persona in testa e magari vedete che la lettura non risuona tanto potete sempre ascoltare anche una delle altre due letture allora conoscersi se svelate l'uno all'altra il vostro sé più nascosto rafforzate il vostro legame quindi qui si tratta di parlare a cuore aperto e di fatti torna a essere libero è il momento di riprendere il controllo sulla tua vita di esprimersi anche oltre che di essere di vivere in modo libero lascia andare il bisogno di controllo permette a questa situazione di svolgersi spontaneamente ecco qui si tratta di essere liberi anche dal controllo ok qui bisogna probabilmente affidarsi un pochino di più a quello che è l'universo in questo caso andiamo a vedere con i tarotti che cosa vi vogliono dire io intanto vi ricordo se volete prendere contatto con me trovate il mio indirizzo email sotto nella descrizione del video ok andiamo a vedere con i tarotti che cosa vi posso dire di questa persona allora cominciamo con un 9 di coppe al contrario quindi sento che questa persona probabilmente una persona o che si fa prendere un po troppo dalla pigrizia diciamo così o in questo momento non è pienamente soddisfatta del tipo di realtà che ha in effetti mi rendo conto con la sacerdotessa che potrebbe essere in una fase di connessione ed espansione personale perché poi abbiamo anche la carta del del sole quindi sento che una persona pulita genuina potrebbe essere anche un segno di fuoco ve lo dico proprio perché c'è il sole però ecco probabilmente è come se mancasse un obiettivo sento che una persona che magari è tanto attiva da un punto di vista mentale ma poi da un punto di vista pratico potrebbe esserci qualche tipo di carenza e credo che questo tipo di insoddisfazione che si vede qui con il nome di coppe al contrario fari faccia riferimento proprio a quello ok poi abbiamo la carta del mondo la carta del carro e un 4 di coppe allora diciamo che sento che una persona che secondo me si focalizza un po troppo su quello che non ha mi viene un po da dire che abbia questa attitudine forse un po di carenza ma potrebbe anche semplicemente essere perché è una persona ambiziosa ok quindi diciamo che vede sempre un pochettino il bicchiere mezzo mezzo vuoto se vogliamo nonostante sento che stia facendo un lavoro su di sé con questa carta della sacerdotessa difatti poi qui abbiamo anche la carta della guarigione da un punto di vista spirituale quattro di spade qualcuno che si prende un tempo per rimettersi in forma fondamentalmente ok e sia da un punto di vista spirituale ma proprio anche da un punto di vista fisico perché comunque il 4 di spade parla anche di cliniche di riabilitazione quindi magari se avete subito un intervento cioè se ha subito un intervento o qualcosa del genere diciamo così per farvi capire il tipo di energia è una persona guardate ho questa carta qua il cavallo bianco adesso qui in questo caso un unicorno però il cavallo è sempre una come simbologia una figura che rappresenta la libertà e la potenza l'energia fisica sento che questa persona perché il cavallo bianco c'è anche qui nella carta del sole ok e sotto abbiamo il carro e c'è anche il mondo è una persona alla quale piace molto viaggiare scoprire conoscere fare nuova avventura una persona curiosa alla quale piace sapere diciamo che in questo momento forse le manca un pochettino un obiettivo fisso un obiettivo concreto però sento che uno degli obiettivi che ha nella sua vita è proprio quello di viaggiare di girare il mondo fondamentalmente sento che potrebbe essere in questa energia di 4 di coppe e di 9 di coppa al contrario perché magari è in un momento diciamo economico che probabilmente non glielo non glielo permette oppure deve affrontare questo tipo di riabilitazione che magari non gli permette appunto di viaggiare però sento che diciamo tendenzialmente una persona alla quale piace molto viaggiare abbiamo un re di coppe ragazzi e una regina di pentacoli andiamo a vedere che altre due che altre fatte a allora credo che potrebbe essere perché abbiamo anche il re di coppe sì perché era di coppa parla sempre di una persona o comunque di un'energia matura con una certa maturità emotiva ok quindi io qui sento che la persona potrebbe anche avere una certa età o comunque essere più maturo o matura dell'età che ha guardate continuano a dirmi potrebbe essere un ostetrica potrebbe essere un ginecologo qualcuno che ha a che fare con diciamo il mondo femminile in questo caso ok magari anche semplicemente una persona che ha a che fare con la bellezza ipotesi anche quello fa parte del mondo femminile quindi centro estetici cose di questo genere in effetti le cliniche di riabilitazione possono anche essere viste qui come una una clinica estetica ok quindi quello potrebbe essere uno dei posti dove potreste incontrare comunque conoscere questa persona potrebbe anche essere un posto perché qui abbiamo comunque la fine della lettura il giudizio e la giustizia quindi c'è qualche cosa che ha a che vedere con la burocrazia visto che comunque con il re di coppe si parlava di una persona alla quale molti fanno riferimento potrebbe anche essere una persona magari con un certo incarico a livello politico piuttosto che essere un avvocato un notaio qualcuno per lo stile ecco sento che a questa persona non piace essere giudicato non pia perché credo che sappia di essere una persona molto cangiante molto dinamica molto però ecco non gli piace che gli si ricordi questa cosa abbiamo un otto di coppe e un fante di spade qui a parte che adesso voi non vedete perché vi ho messo le carte allora facciamo così ok credo che per molte persone potrebbe essere una persona quante volte dico persona vabbè potrebbe essere qualcuno che ha già una famiglia arriva già da una famiglia che comunque ha già dei figli perché qui comunque abbiamo un fante di spade e comunque anche qui abbiamo un re di coppe quindi potrei vi dirò che potrebbe anche non essere una relazione idilliaca quella che questa persona con i suoi figli insomma sempre tutto dovuto alla questione dei viaggi e degli spostamenti può anche essere una persona che magari si sposti molto per lavoro ma sento che qui a che fare con un gruppo di donne o comunque c'è qualche tipo di lavoro che riguarda le donne sento molto il lato salute il lato terapia mentale medicina oristica cose a livello energetico comunque potrebbe essere proprio un terapeuta e ragazze potrebbe essere il terapeuta quindi voi vi vi appoggiate o per i ragazzi potrebbe essere la terapeuta a cui voi vi appoggiate a cui voi fate riferimento insomma è una persona che aiuta gli altri ecco diciamo così allora per quello che riguarda l'aspetto fisico potrebbe essere sì ragazzi una persona diciamo abbondante con una certa con una certa come vi posso dire imponenza abbondante non vuol dire con chili di troppo necessariamente ma potrebbe anche essere abbondante nel senso che è una donnona piuttosto che un omone con le spalle grandi cose di abbondante nel complesso non intendo solo per i chili ok non vi spaventate se non è quello il vostro genere insomma di persona ideale sto cercando di capire se riesco a dirgli ancora qualche cosa direi di andare a vedere con le fatine che cos'altro viene fuori intanto continuo a guardare se viene fuori devo dire che è una persona onesta e sincera è comunque una persona io sento che veramente a questa questa predisposizione nell'aiutare degli altri per quello che sento che un personaggio comunque che è riconosciuto di una certa maturità alla quale molte persone fanno riferimento ripeto potrebbe essere un terapeuta qualcuno che aiuta a livello sanitario a livello di salute a stare meglio gli altri proprio abbiamo non attaccamento giustamente perché questa persona ama viaggiare ok quindi e qui c'è anche intorno a essere libero è il momento di riprendere il controllo sulla tua vita quindi il fatto di lasciare libero qualcun altro vuol dire che automaticamente riusciamo a concederci quel tipo di libertà e poi abbiamo inizio e quindi qui inizia qualche cosa ragazzi ok diciamo che sento che è una persona che non si focalizza proprio esattamente sul suo corpo fisico ma più sul suo corpo emotivo secondo me quindi sullo stare bene dentro va bene cari amici della terza scelta io spero che la lettura vi sia stata utile di avervi dato insomma qualche spunto interessante se non se non dovesse risonare questa potete anche ascoltare una delle altre due letture e anche se avete due persone diciamo così nel mirino potreste ascoltare più di una lettura ok io vi ringrazio di essere stati qui con me se comunque la lettura vi è piaciuta potete mettere un like potete iscrivervi potete condividere commentare e lasciare una donazione tutto il vostro supporto per me insomma è gradito io vi ringrazio vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video